Positivo il bilancio dell'ANAS del primo weekend di esodo estivo con bollino rosso. I volumi di traffico sono stati considerevoli sin da venerdì pomeriggio, in cui si sono concentrate gran parte delle partenze dai grandi centri urbani verso le località turistiche, soprattutto lungo le dorsali adriatiche, ioniche e tirreniche. Ma i disagi per chi si è messo in viaggio sono stati minimi. Ieri il traffico è stato intenso soprattutto sulle direttrici autostradali nord-sud, con numerosi spostamenti di breve percorrenza sulla viabilità secondaria, dove il traffico è stato intenso con rallentamenti ed alcune code concentrate al mattino nei pressi delle località turistiche, costiere, collinarie e montane. Anche nel corso del primo weekend dell'esodo estivo 2016, dunque, si confermano strade delle vacanze con i maggiori flussi di traffico in Lombardia, in Veneto ed Emilia-Romagna. Stessa situazione anche sulla strada statale 16 adriatica, sulle intere dorsali ionica, tirrena inferiore e tirrena superiore, l'Aurelia in Toscana e nel Lazio, l'Appia nel Lazio e in Campania, e poi le autostrade del Grande Raccordo e la Salerno-Reggio Calabria. In tansi flussi veicolari, inoltre, si sono registrati anche i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia. Un resoconto dettagliato, dunque, il risultato del piano per l'esodo. Attraverso cui la campagna Guida e Bassa, l'ANAS garantirà la sorveglianza, il pronto intervento, il coordinamento tecnico, l'infomobilità e la comunicazione ai clienti. Tali attività sono il frutto di un monitoraggio attento e steso su tutta la rete stradale nazionale. Le automobilisti potranno ricercare tutte le informazioni sulla viabilità consultando il sito stradeanas.it e i canali social corporate.